Buongiorno, oggi è giovedì 27 ottobre 2022, Piero Pio Maria Adrioli, figlio spirituale di Padre Pio. Oggi volevo farvi vedere delle cose ma non ce l'ho da portata di mano, quindi vi faccio vedere altre cose. E voglio ritornare all'ultimo video di quando appunto Ancellotti ha avuto il quaderno dell'amore e poi il Milano ha vinto la copre i campioni con Cacca. Adesso vi faccio vedere un articolo su Stop che aveva, di un'intervista a Ancellotti, che aveva fatto il giornalista Luca Serafini. Ve la faccio vedere. Qui è un settimanale Stop e Luca Serafini ha fatto questo articolo. Vedete? Il santo mi insegna tutti i giorni l'importanza del fare di Luca Serafini. che parla appunto, vedete, qui alza la coppa dei campioni. L'amore per Padre Pio regala sollievo. Si è chiesto perché un uomo buono abbia dovuto patire fisicamente. E qui parla di Padre Pio. Vedete? Qui parla appunto di Padre Pio. Adesso vi faccio vedere cosa dice nella sua intervista. Vedete qui la coppa dei campioni. Chi ha vinto? Vedete, qui parla del quaderno. È raccontato nel rete del Padre Pio per Padre. Il quaderno dell'amore è scritto dal figlio spirituale Luigi Gaspari. Che così ci può dire a proposito di questo libro. È passato un'infinità del tempo quando lo lessi, dopo che me lo regalarono a Milanello, dove si allena il Milan. Ma quel libro e i suoi contenuti li ho ancora vivi e impressi nella mente e nel cuore. Rappresentano l'ideale prosecuzione del fare e del dire. Vedete? A Milanello mi regalarono il quaderno dell'amore e porto sempre. Ecco, come vedete, io ho detto la verità anche del quaderno dell'amore. Nel prossimo giorno vi farò anche vedere le foto che fece nel marzo dell'89 Luigi Gaspari, c'ero anch'io. Difatti abbiamo fatto una foto con Ancellotti, io, Luigi Gaspari e un altro ragazzo. Luigi Gaspari fece la foto anche con Van Baste, Gullit, Filippo Galli, Mussi. Io la fece con Van Baste ma la mia non la trovo più, purtroppo. Ero insieme a Luigi, eravamo a braccetto di Van Baste. Comunque, però voglio anche dire una cosa. Non è che padre più ha aiutato solo il Milan. Adesso vi faccio vedere una cosa molto carina. Perché un giorno vidi l'Inter, praticamente, che aveva sempre dei problemi, non riusciva mai a vincere niente. E allora scrissi una lettera a Massimo Moratti. Scrisi una lettera a Massimo Moratti e gli raccontai della storia del quaderno con il Milan. E gli mandai una cartolina vecchia, benedetta da padre Pio, dove diceva appunto che questa cartolina era una cartolina che mia mamma faceva, ogni volta che scriveva a casa mia mamma, che si trovava a San Giovanni Rotondo, andava da padre Pio e gli faceva benedire tutta la posta che lei mandava, comprese le cartoline che mandava a casa. Quindi gli mandai a Massimo Moratti una cartolina, una cartolina appunto dove, che era benedetta, gli mandai come regalo questa cartolina e lui subito dopo mi scrisse. Vi faccio vedere la lettera. Vedete? Massimo Moratti, 3-1-2005. Signor Piero Drioli, via Mortara, 4-20-Milano. Adesso vi faccio vedere il contenuto. Massimo Moratti, caro signor Drioli, ho ricevuto la sua lettera. Aspettate che mi metto gli occhiali perché non vedo niente. Ho ricevuto la sua lettera con la bella e vecchia cartolina di padre Pio. La ringrazio tanto e spero che riceva questa mia un pensiero per lei in attesa di sapere cosa fare in aiuto alla comunità di San Giovanni Rotondo. Grazie con simpatia. Ecco, un'altra volta non era San Giovanni Rotondo che doveva aiutare, perché gli aiuti a San Giovanni Rotondo ci sono già, a parte economica, ma avrebbe dovuto aiutare il quaderno. E lui, purtroppo non siamo più riusciti a entrare in contatto. Comunque se lui vorrà entrare in contatto anche adesso con me, io sono sempre pronto, chiaramente. Vi racconto... Sapete perché mi ha scritto Moratti? Vi racconto anche come mi ha scritto Moratti. Mi mandò in portineria una lettera con la medaglietta del centenario dell'Inter in portineria. In portineria gli dissero che io non c'ero perché ero a lavorare, chiaramente. Rimandò l'autista la seconda volta e fece firmare il portinaio, il portiere, come ricevuto della lettera e io mi ritrovai questo. Che poi, mi dispiace, perché io sono un generoso. Siccome il mio capo era interista, gli ho regalato questa medaglia del centenario dell'Inter. Ma questo era un regalo di Moratti. Chiaramente la lettera me la tengo io. E se Massimo Moratti, non so, verrà a conoscenza di questo mio video, se riesce appunto a comunicare anche con me, e io sono ben felice di potergli adesso dire del quaderno dell'amore. Vi spiego una cosa. Perché Moratti poi alla fine si è convinto e mi ha cercato? Siamo ad una domenica, c'è Inter-Sandore. Guarda che c'è sempre la Sandore di mezzo. L'Inter, a cinque minuti dalla fine, perde 2-0. È subito dopo che gli ho mandato la cartolina. In cinque minuti l'Inter capovolge il risultato e vince 3-2. Bene. Chiaramente in quegli anni poi l'Inter comincia a vincere un scuretto dietro l'altro arrivando fino alla Coppa dei Campioni. Perché probabilmente il signor aveva liberato questa squadra da ogni negatività. Comunque non è che io non sono io e questa è un'ispirazione che è del quaderno dell'amore che però Massimo Moratti non aveva capito che era il quaderno dell'amore da aiutare. I frati sono già aiutati abbastanza. E anzi vi voglio raccontare una cosa a proposito di quello. Prima vi faccio vedere di nuovo una lettera del direttore.